Ti devo eliminare velocemente, bro! Non puoi farmi ballare, ti devo eliminare velocemente! Cioè, regà, mamma mia, mamma mia, ma quanti ne hai? E cavolo! Oh, regà, mi sono proprio rotto di perdere tutte le partite, mamma mia! Adesso basta, regà, mi sono proprio rotto. Adesso basta, cerchiamo una guida, vediamo un po'. Oh, come vincere una partita in solitaria su Fortnite? Beh, questo direi che fa proprio il caso nostro. Vincere una partita da solista di Fortnite può essere difficile. Fortnite è un gioco battle royale, quindi 100 giocatori si affronteranno per cercare di ottenere la vittoria reale. Questo wiki out insegna alcune strategie che ti aiuteranno a vincere una partita in solitario. Ma, ragà, è proprio quello di cui avevo bisogno, ragazzi! Ok, prepararsi per il successo. Pratica. Fortnite è un gioco che richiede molte abilità. L'unico modo per diventare abbastanza bravo da vincere regolarmente è fare pratica. Se perdi una partita, riprova, guarda i giocatori più abili e cerca di modare le strategie mosse. Quindi, cioè, in pratica dovete guardare i miei video, ragazzi. Cioè, per emularmi i pro dovete guardare i miei video. Vabbè, sto scherzando. Andiamo a fare pratica, ragazzi. Cioè, è l'unica. Regà, dopo circa 27 giorni che mi sto allenando in creativa, direi che sono abbastanza bravo. Mi sento abbastanza forte per poter iniziare a vincere una partita in solo. Ovviamente, cioè, non è che sono fortissimo. Mi sono allenato solamente un mese senza pausa, senza mangiare, senza bere. Però, vabbè, dopo questo mesetto direi che comunque non sono malissimo. Possiamo andare in solo, no? Ok, ragazzi, ci siamo in partita. Allora, il primo consiglio ci dice di trovare un posto non molto popolato. Quindi direi di andare qui, sperando non ci siano persone. Vabbè, questa qua, cioè, questa parte della mappa, ragà, penso non ci vada nessuno. Non lo so. Cioè, raga, in realtà c'è una persona. È appena atterrata una persona dove sono atterrato io. Ma questa qua non è, non fa parte dei piani. Non fa parte dei piani il fatto che ci sia una persona da me. Boh, non lo so. Spero di ucciderla. Speriamo di ucciderla? Ok, ok, ok. Allora, raga, non era proprio non popolato. C'era una persona, però possiamo andare avanti col tutorial. Poi, ragazzi, il quarto consiglio ci dice di avere delle cure nel nostro inventario. Allora, beh, direi che prima di tenerle nel nostro inventario dobbiamo almeno, almeno curarci. Quindi facciamoci questi mini, queste bende e tutto. Quinto consiglio, avere un po' di materiali all'inizio della partita. Quindi dobbiamo subito farmare, ragazzi, cose veramente assurde. Cioè, io non mi sarei mai immaginato che in una partita di Fortnite bisognasse tenere delle cure nell'inventario oppure addirittura prendere materiali, ragazzi. Cioè, sono delle cose assurde. Ti svela dei segreti che io non mi sarei mai aspettato. Raga, meno male che c'è questo sito che ci aiuta perché se no non saprei davvero come fare. Ok, ragazzi, oh mio Dio, è pieno di nemici. Non so davvero cosa devo fare. Non so assolutamente cosa devo fare. Guardiamo un po' i nostri consigli. Il consiglio numero uno è nasconditi dagli altri giocatori. Ok, va bene. Cioè, nasconditi dagli altri giocatori. Ma io volevo fightare un po'. Vabbè, se ce lo dice lui, ragazzi, io non posso fightare. Mi nascondo. Ci mettiamo qua dietro l'albero. E aspettiamo. Cioè, tanto noi ci dobbiamo nascondere così almeno non ci uccidono, no? Beh, direi, direi che ci siamo nascosti per un bel po'. Questi qua non ci hanno visto, per fortuna. E il secondo consiglio è evita litigi inutili. Quindi noi praticamente, cioè, non dobbiamo andare a fightare. Perché sono inutili. Alla fine non serve andare a fare kill nelle partite. Cioè, se vogliamo vincere dobbiamo camperarcela. Quindi io mi sono un po' nascosto. Mi sono messo un po' qua nel cespuglio. E adesso direi che possiamo andarcene. Perché è davvero un litigi inutile. Quindi via, 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 via. Non voglio assolutamente prendere questo combattimento. Ragazzi, è un nemico. C'è un nemico. Adesso il terzo consiglio è elimina i giocatori il più rapidamente possibile. Ok, quindi questo qua devo eliminarlo il più velocemente possibile. È un po' contraddittorio, ragazzi. Prima mi ha detto di non prendere fight. Adesso mi dice di eliminarlo il più velocemente possibile. È un po' strano, ragazzi. Però, vabbè, se ce lo dice lui, ragazzi, cioè, devo andargli proprio velocemente. Devo avere proprio... In due secondi devo ucciderlo, ragazzi. E velocissimamente li devo eliminare. Aia! No, vabbè, pure lui non è che è un genio. Si è fatto ballare pure lui, ragazzi. Vabbè. Ti devo eliminare velocemente, bro! Non puoi farmi ballare! Ti devo eliminare velocemente! Cioè, raga... Mamma mia, mamma mia. Ma quanti ne hai? No, 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 ragazzi. Cioè, non ce la posso fare. Cioè, dovevo eliminarli velocemente, ok? L'ho eliminato velocemente. È perfetto. Adesso non c'è stato nessun problema, perché dato che mi ha detto di eliminare velocemente, io l'ho eliminato. Quindi, però, ragazzi, sto facendo tutto quello che mi sto dicendo. E, appunto, stiamo finalmente vincendo una partita. Cioè, non mi succedeva da anni, ragazzi. È assurdo. Davvero incredibile. E intanto, ragazzi, io pesco e trovo degli spas in giro per la mappa. Vabbè, grazie mille, gioco. Visto? Visto? A seguire i consigli... Cioè, si trovano pure gli spas. È incredibile. Cioè, se tu segui i consigli di Wikiau, trovi pure degli spas. Ma intanto vedo altri nemici qua davanti. E il consiglio numero 4 dice di avvicinarci, tipo di soppiatto ai nemici e fargli danno. Ok, ok. Che poi si collega pure al consiglio numero 5 che dice di non dare a un giocatore il tempo di curarsi. Quindi noi ci avviciniamo molto, molto cautamente. E facciamo un sacco di danno. Ok. Vai. 33 bianco. Ok, abbiamo aiutato pure l'altro. Vai, 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 vai. Non gli devo dare il tempo di curarsi, ragazzi. Non gli devo dare il tempo di curarsi. Bro, dove sei? Aspetta, amico mio. Ai, 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 ai. Ok. No, no, no. Non ti devo dare il tempo di curarti, bro. Non ti devo dare il tempo di curarti. Ma tu dove sei? Regà, mi sa che ho sbagliato qualche punto. Perché mi sa che nella guida non c'era scritto cosa fare nel caso il tizio scompare dalla tua vista. Ma cosa succede? Oh, mio Dio. No, 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 no. No, regà. Regà, regà, regà. Fermi tutti. Ok. No, mi sa che questo è un altro nemico. Però ho usato sempre i consigli di Wikiau. Eliminarlo molto velocemente. Ok, abbiamo eliminato pure questo. Oh, mio Dio. No, no, no. Ok. Vabbè, mi ha hitato, ragazzi. Ma non è un problema. Perché, come ci ha detto il mitico Sommo, ci ha detto avere sempre delle cure nell'inventario. Quindi io ho tenuto le cure nell'inventario e quindi mi curo senza problemi, ragazzi. Cioè, alla fine non è che io sto uccidendo i nemici perché sono un po' più forte di loro. Cioè, li sto uccidendo solamente grazie ai mitici consigli di Wikiau. Quindi, per ora siamo ancora in gioco, ragazzi. Siamo ancora in gioco. Vai, vai così. Ci dice di nasconderci fino a quando non ci sarà solamente un giocatore. Quindi, cioè, sinceramente, io come faccio a dire di no a Wikiau? Devo per forza nascondermi fino a quando non ci sarà solo un giocatore. Cioè, per forza. Quindi andiamo un po' in safe zone, ragazzi. E mi metto dietro questo cespuglio, non lo so. Devo per forza nascondermi fino a quando non ci sarà un solo giocatore in vita. Ok, ragazzi. Abbiamo il nostro bellissimo cespuglio. Cioè, direi che non abbiamo più bisogno di niente. Sì, ragazzi. Ma, sinceramente, io mi sto anche un po' annoiando qua. Ho capito che voglio vincere su Fortnite. Però è da due minuti che sono qua dentro lo sto cespuglio a non fare niente. Cioè, lì c'è un bel nemico. Lo vorrei hittare, no? Però non posso, ragazzi. Bisogna seguire i consigli. Perché se no, come si fa a vincere? Guardatelo lì come si avvicina a me. No, 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 ragazzi. Speriamo, spariamo. Cioè, spariamo. Ma cosa ho detto? Spariamo. Speriamo che non venga da me. No! C'è la safe zone che si sposta. No, 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 no. Come facciamo? È impossibile. Cioè, come faccio a nascondermi se c'è la safe zone? Devo andare in safe zone e devo pure nascondermi. Cioè, non so assolutamente cosa devo fare. No, 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 no. Ci sono pure nemici qua dietro che mi sparano. Sapete cosa vi dico? Io mi metto qua sopra, mi faccio un bel fortino. E, opla, siamo coperti da tutte le persone che ci vogliono uccidere. Perché tanto siamo sopra, cioè, ci stiamo nascondendo. Oddio, no, 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 no. Tu, bro, non dovresti in realtà fare quello che stai facendo. Cioè, come ti permette? Una partita. Intanto, vabbè, questo qua che si sta a shiftare. Vabbè, un po'. No, è un po' strano, ragazzi. Questo qua mi sa che vuole timmare. No, 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 no. Io non timmo, bro. Vabbè, ma ci sono altre persone che mi vogliono uccidere. Ma stiamo scherzando, ragazzi. Cioè, dovrei aiutare, no? Questi consigli non funzionano. Ma in realtà sai che stanno funzionando? Perché siamo rimasti solamente in quattro. Non abbiamo fatto nulla tutta la partita. Però, almeno, adesso siamo verso fine partita. E siamo messi pure abbastanza bene. Quindi, mi sa che questi consigli funzionano abbastanza. Però, eh, questo qua se la smettesse di spararmi a caso. Oddio. C'è un'altra save zone. Noi dobbiamo spostarci. C'è un nemico. C'è un nemico, ragazzi. Non ci ha visti. L'unica cosa che so è che devo nascondermi fino a quando non ci saranno solamente due giocatori. Mi faccio un box qui? Non lo so. Sì, sì. Direi di farmi un bel box qui. Oddio, sento un nemico che mi pusha. No, 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 no. Non c'è scritto questa cosa nella guida. Cosa bisogna fare se un nemico ti pusha? Cioè, questa cosa non c'è scritta assolutamente. La guida mi dice aspettare che siamo solamente in due giocatori. Quindi, io sinceramente aspetto, ragazzi. Io aspetto. Mentre aspetto, mi sa che rubo anche un po' di lutto a questo qua. Grazie mille. Eh, quanti materiali che avevi, bro. E intanto c'è questo nemico che sta sparando a me. Ma io non so dov'è l'ultimo. Cioè, so che questo qui è qui. E fino a qua ci siamo. Eccolo qui. Raga, vai, vai, vai. Uccidiamolo. Ha pochissima vita, raga. Ho fatto uno strappo alla regola. Questi qua si dovrebbero uccidere tra di loro, se riescono. Perché io voglio aspettare che rimaniamo in due per andare allo scoperto. Quindi, io vado in save zone. E poi, bam. Ascolto pure l'ultimo consiglio. Che è quello di posizionarmi in un modo da non dovermi muovere molto. Quindi, stiamo qua sopra. Che così io non mi devo muovere assolutamente. E posso stare qua a sparare a tutte le altre persone. Oddio, raga. Sto qua mi ha pushato. Sto qua mi sta pushando. Cosa devo fare? Non c'era scritto. Non c'era scritto assolutamente cosa dovessi fare in queste situazioni. Vabbè, vabbè. L'ho ucciso, l'ho ucciso. Siamo rimasti solamente in due. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Siamo anche in una posizione favorevole, ragazzi. Potrebbe essere la mia prima vittoria in assoluto di Fortnite. Vediamo se riusciamo ad ucciderlo. Let's go! Oh mio Dio. Ce l'abbiamo fatta, raga. Con i consigli di Wikiau siamo riusciti a vincere la mia prima vittoria di Fortnite. Per chi non l'avesse ancora capito, ragazzi. In realtà questo è un video un po' ironico, ragazzi. È un video un po' ironico. Perché tante persone continuano a dare piccoli segreti, piccoli consigli per vincere, per fare tutte queste cose. Quando in realtà, cioè, non esistono grandi segreti per migliorare il suo forno. Dovete semplicemente giocare, giocare con i vostri amici. Dovete giocare tanto, impegnarvi tanto. Non è che esistono trucchi segreti per vincere, ragazzi. Questa era un po' una presa in giro a questo qua. Che sì, effettivamente sono consigli abbastanza utili. Però se uno è un nabbo, se uno magari non vuole migliorare, vuole fare solamente una vittoria così. Che poi, in realtà, neanche per forza vince. Perché se uno gioca così, probabilmente non è fortissimo. Quindi, ragazzi, mi raccomando. Se volete vincere su Fortnite, migliorate e divertitevi. E non pensate a vincere. Che tanto, chi se ne frega di vincere, l'importante è giocare e migliorare e divertirsi. Quindi, ragazzi, detto questo. Vi ricordo di utilizzare il codice Calpi di negozio oggetti per shoppare tutte queste bellissime skin di Fortnite. Lasciate un bel like al video e iscrivetevi al canale. Ovviamente, il codice Calpi di negozio oggetti. Ma questo l'ho già detto prima. Beh, ragazzi, ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti. 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 ? Ciao a tutti. Grazie a tutti.